ho capato carote e patate adesso le vado a tagliare a rotelline e poi le vado a passare in una ciotolina dove all'interno ho inserito olio, limone, sale e pepe poi andranno in una teglia, forno, 180 gradi per 30 minuti ho tolto alcune foglie dal cavolo verza adesso le lesso per circa 10 minuti intanto in una padellina do la prima cotta a della carne macinata che poi andrà all'interno del cavolo verza vado ad inserire nella foglia della carne macinata e del galbanino a cubetti vado a chiudere e a mettere degli stecchini a listarelle sottili un cavolo verza in un'insalatiera inserire delle noci e grattare un'arancia grazie 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 grazie